Ci si, spetta sia alla PIA procedente che ad altra pubblica amministrazione, di no per potenziale conflitto di interessi. Vediamo cosa rispondete, intanto vi avviso, superate i 100 like, quindi metà del traguardo è stata raggiunta, Sounding ci dice che è in un rifugio di montagna, cilentica connessione, il mio audio è basso, a me non risulta, magari se qualcun altro me lo segnala perché a me risulta tutto regolare, quindi può darsi che dipenda da voi, non da me o da chi l'ha segnalato. Allora, eccoci qua, dico a Chiara, Tiziana, Michele, non rispondete nella chat, rispondete cliccando sul sondaggio, se non vi appare, uscite e rientrate, c'è una striscia blu per votare nel sondaggio, non rispondete nella chat perché poi il sondaggio non viene registrato, non abbiamo le percentuali, mentre ci interessa sapere anche quanti l'hanno indovinata. Ok, Gene dice che si sente bene, infatti non avevo dubbi. Ok, bene, 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 100 votanti già, quindi un'ottima statistica. Bene, 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 quindi chi sente basso dipende dal proprio sistema, non da noi. Ok, allora, terminiamo il sondaggio. La domanda è, l'APA può avere iniziativa procedimentale? L'avete capita la domanda? Cioè, la domanda è, può una PA fare domanda ad un'altra PA? L'iniziativa è la prima fase del procedimento amministrativo, quindi può una PA fare domanda ad un'altra PA? Ad esempio, il comune che deve ristrutturare il palazzo comunale vincolato, con vincolo storico-artistico, può fare domanda di autorizzazione di rimozione del vincolo? Certo, certo, quindi l'iniziativa procedimentale può essere anche di una pubblica amministrazione. Non riguarda solo determinate tipologie di procedimenti, quindi un'amministrazione che deve avere un'autorizzazione regionale o viceversa, la regione che deve avere un'autorizzazione comunale può avere iniziativa procedimentale. La B sbagliata, non spetta soltanto alla parte privata. Molte hanno detto la A perché quel solo per detenere, solo per attenzione, solo per, nella maggior parte dei casi, è sbagliata. Mi raccomando, Moira, CP, no scusatemi, Moira, Margherita, non rispondete nella chat. Ok, Puma ci sottolinea l'AWA, un'altra tipologia di autorizzazione, autorizzazione unica ambientale che ha queste caratteristiche. Allora, vi ricordo, come ho ricordato nella prima parte, di iscrivervi al canale gratuito, perché non costa nulla, di mettere la campanella delle notifiche, perché non costa nulla, poi chi volesse, esistono tre livelli di abbonamento per accedere a moltissimo materiale, lo trovate indicato. Intanto Arcangelo dice, buongiorno prof, sempre presente, approfitto per ringraziare anche qua, avanti tutta, ci vediamo presto alla Benissima Firenze. Arcangelo, ti aspetto, aspetto tutti quelli che passano a Firenze, se mi contattano. Prima ci vediamo per un passaggio. Avevo capito che la domanda intendesse l'avvio del procedimento d'ufficio. Dana, questo è un tuo problema, non è un problema di chi ha fatto la domanda, quindi, come ho detto nelle indicazioni iniziali, attenzione ad aver capito la domanda. Prima di rispondere si cerca di capire bene. Non c'era scritto l'iniziativa d'ufficio, quindi lo dico ovviamente in termini positivi, perché è uno degli errori più frequenti, quelli di avevo capito che, ma non c'era scritto. Quindi, porsi sempre il dubbio se si è capito bene. Molto spesso si è capito male la domanda, quindi trasformarla in un altro quesito. domanda numero 18. Allora, la domanda numero 18. Ma la lezione al mare si farà, Anna? Sì. La lezione al mare si farà dopo Ferragosto, a San Benedetto del Tronto. Sono indeciso se la faremo sul Molo, come è tradizione, ormai siamo al terzo anno, Molo Sud, o in Pineta. Molo ci consente di farla da un quarto alle sette, fino alle otto e mezzo, poi viene caldo. Se la facciamo in Pineta si può fare anche di tre ore, quindi sto valutando. Comunque vi aggiorno su quando sarà, come sarà fatta, e poi comunque, per chi viene anche più tardi, diciamo, rimarremo, con Tuffo. Quest'anno faremo anche il Tuffo. E forse anche un pezzettino di lezione da dentro l'acqua. Mi raccomando, in barca no, non ho la barca, quindi vado in Panda, non è balneabile, quindi vi aspetto San Benedetto del Tronto. Allora, poi chi avesse luoghi dove è in grado di ospitare, magari al chiuso, un evento, si può organizzare anche un tour, in zona, quindi magari, se c'è una sala da 30-40 persone al chiuso, magari condizionata, vengo volentieri e facciamo così, una lezione estemporanea. Ne approfitto per rilanciare anche i chiarelli in tour, quindi la possibilità di ospitare gratuitamente un evento che si può fare. Il sondaggio sparisce prima della lettura della domanda? No, probabilmente dipende dal lag, dal tempo, diciamo, con cui si è connessi. Se si ha una connessione molto lenta, il messaggio arriva molto lento, quindi faccio in modo magari di tenerlo un po' di più. I tour quando riprenderanno? Settembre, ottobre, ora ci sono molte lezioni da registrare, ve l'ho anticipato stamani, che ci sono diversi eventi, fra cui anche eventi legati a iniziative con Edizioni Simone, riprenderà il TG, e concorsando, sorpresa, che scoprirete nei prossimi giorni.